carissimo amico chitarrista mi rivolgo a te che hai una chitarra che monta un floideroso o un ponte similare e nel momento in cui dopo averla imbracciata inizi ad agitare in maniera repentina e sconsiderata la leva del vibrato ed inizi anche ad avvertire una forte sensazione di disagio in conseguenza di un importante depauperamento dell'accordatura del tuo strumento ma soprattutto se inizi ad avere delle sensazioni o delle visioni simili a quelle della protagonista del film l'esorcista sappi che questo video ha il potere di risolvere la tua condizione psicopatologica e di riportarti ad uno stato di serena normalità ed eccoci qui con il nostro floideroso luccicante croce e delizia di moltissimi di noi chitarristi delizia perché ci permette di fare delle evoluzioni altrimenti non riproducibili con un ponte stratocaster style croce perché ahimè se non settato adeguatamente ci darà veramente tanto filo da torcere dal punto di vista di stabilità di accordatura ed in casi estremi potrebbe portare il chitarrista a delle crisi depressive o epilettiche ma andiamo nel dettaglio a vedere cosa fare per settare al meglio questo floideroso allora dicevamo il ponte deve essere regolato in maniera tale che a chitarra accordata questo risulti con la base e mi riferisco alla parte inferiore è importantissimo questo discorso perché alcuni ponti hanno magari delle bordature che sono addirittura simmetriche dunque noi dobbiamo prendere come riferimento la parte inferiore che è quella che deve essere praticamente regolata in maniera tale che sia parallela al corpo della chitarra questa posizione mi permette di avere l'ottimale angolo della leva e di conseguenza anche un'escursione che è quella ottimale di utilizzo l'altra cosa indubbia come vantaggio è che le sellette trovandosi in posizione parallela alle corde non mi daranno nessun problema di altezza nel momento in cui avrò bisogno di settare o regolare le ottave e andrò a spostarle in avanti o indietro cioè sia spostandoli in avanti o indietro muovendosi nello stesso piano delle corde non mi creeranno problematiche di sfasatura di altezza rispetto al settaggio precedente allora abbiamo detto che un settaggio adeguato del ponte costituisce un'ottima base per rendere stabile la cordatura del nostro strumento altre tre verifiche e step che io consiglio caldamente di fare sono le seguenti prima di tutto andare a verificare che il fissaggio di ogni singola selletta sia saldo sia adeguato cioè che non abbiano la possibilità di muoversi anche se io vado a sollecitare le corde tramite la leva del vibrato oppure operando dei bending perché se queste sellette non sono praticamente chiuse adeguatamente potrebbe succedere che con il tempo tendano ad avanzare e chiaramente a perdere anche in maniera drastica l'accordatura magari di una singola nota o di più note altro punto nevralgico e molto delicato è il blocco a corde se questo non chiude adeguatamente praticamente le corde potrebbe succedere che anche qui nell'utilizzo della leva del vibrato le corde riescano praticamente a scorrere all'interno del blocco a corde e conseguentemente a questo perdere accordatura allora per fare una verifica se questo chiude adeguatamente è molto semplice basta andare a fare una pressione sulle corde tra il blocco a corde e le meccaniche e andare a suonare le corde a vuoto se non avverto variazioni di accordatura vuol dire che il blocco a corde comunque funziona in maniera adeguata e blocca saldamente le corde ultimo punto molto nevralgico e che potrebbe creare problemi è praticamente il fissaggio delle corde sul ponte cosa potrebbe succedere potrebbe succedere che questo non riesca a bloccare in maniera ferma la corda nel momento in cui è inserita e di conseguenza suonando o anche qui sollecitando praticamente la leva potrebbe succedere che la corda tende a fuoriuscire dal suo alloggiamento con conseguente perdita di accordatura anche in questo caso cosa possiamo fare per rendere stabile e praticamente risolvere questo tipo di problema bisogna avere la pazienza di andare ad estrarre ogni singolo cubetto praticamente di metallo che è quello che fissa la corda all'interno della selletta e estrarlo uno ad uno ed andare a rettificarlo con della carta abrasiva anche di caratura medio grossa cioè ad inciderlo a creare di micro solchi chiaramente che siano però in direzione opposta a quella di entrata della corda perché questo tipo di operazione deve crearmi dell'attrito sulla corda cioè la corda viene inserita in questo in questa maniera in questo verso io dovrò andare a praticamente a rettificare la parte che andrà a contatto e a chiudere la corda però in questo verso in maniera tale di creare attrito nel momento in cui vado a chiuderla vi assicuro che su un paio di chitarre con questo tipo di intervento ho risolto definitivamente alcuni problemi che il ponte mi dava proprio per la perdita di accordatura in questo specifico punto bene carissimi amici siamo giunti al fine di questa chiacchierata spero che il video possa darvi o avervi dato qualche magari input o qualche spunto interessante per migliorare la stabilità dell'accordatura dei vostri strumenti se così è stato vi invito a liccare un grosso like ad iscrivervi al canale a mandarmi eventualmente qualsiasi altro tipo di quesito o problematica che potreste riscontrare nei vostri strumenti per cercare di sviscerarla e vedere se riusciamo a trovare delle soluzioni per chiaramente risolverla e non mi resta che augurarvi una grandissima ed ottima serata e alla prossima Grazie 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 Grazie